Ancora frizioni tra maggioranza e opposizione sull'attività amministrativa nel giorno in cui è tornata a riunirsi all'emiciclo il Consiglio regionale. Per l'opposizione vige una certa disorganizzazione, per loro la maggioranza mortifica il lavoro del Consiglio e delle commissioni. Per Silvio Palucci, capogruppo del PD, quella di oggi è una legislatura omnibus che infila provvedimenti all'ultimo momento nelle commissioni per aprire la strada alle sorprese fuori sacco durante i lavori del Consiglio con un meccanismo ben preciso. Nello specifico ci si riferisce alle variazioni di bilancio ma non solo. Per le opposizioni ci sono leggi che vengono impugnate, nessuna programmazione. Durissimo anche il capogruppo dei 5 Stelle, Sara Marcozzi. Si dà il titolo e ulteriori disposizioni e poi viene farcito di emendamenti che a conoscenza solo di una parte della maggioranza e le opposizioni non hanno neanche il modo di poter approfondire. In questo modo la qualità normativa è scadente, tutte le leggi vengono impugnate e soprattutto viene meno il compito vero della regione, ovvero programmare. Noi abbiamo in questi 18 mesi assunto un atteggiamento molto responsabile, accettato anche questo modus operandi che di fronte a un'emergenza doveva in qualche modo prevedere risposte immediate da parte delle istituzioni. Quelle sono state, quando ci sono state lente. Un Consiglio regionale al mese che reca un ordine del giorno vuoto, tanto da essere costretti a ricorrere continuamente a provvedimenti fuori sacco. Nessun provvedimento utile agli abruzzesi e alle nostre imprese che da oltre un anno aspettano ancora i contributi stanziati dal Cura Abruzzo 1 e 2. Un fallimento clamoroso sotto ogni punto di vista. Di tutt'altro tenore le dichiarazioni della maggioranza. La Lega respinge al mittente tutte le accuse parlando di attacchi strumentali. Il capogruppo del Carroccio Vincenzo Lincecco spiega che in ciò che è accaduto non vi è nulla di strano e l'ostruzionismo fatto dalle opposizioni non aiuta. L'opposizione fa il suo lavoro chiaramente strumentale, non infiliamo nulla, non facciamo nulla alla critichella, i progetti di legge vengono depositati, vengono portati in commissione, fanno il loro iter e poi vanno in Consiglio regionale attraverso lo strumento che è previsto all'interno del regolamento. Quindi sono chiaramente accuse strumentali. In questo progetto di legge che non è altro che una variazione di bilancio che va in sintesi a rifinanziare alcune norme esistenti e quindi che sono presenti già nella, erano presenti anche all'interno del bilancio. Non c'è nulla di strano, non c'è nulla di rituale. Chiaramente poiché abbiamo approvato un bilancio con delle condizioni particolari siamo rimasti a fine anno che durante l'anno avremo tra virgolette ricoperto o comunque fatto variazioni di bilancio per andare a rifinanziare norme che erano già presenti.